ciao a tutti oggi parliamo del tracciato di movimento il tracciato di movimento è quel percorso che unisce tutti i keyframe che vengono messi sull'animazione della position per chiarire meglio la cosa facciamo subito un esempio questa volta la composizione l'ho già creata in anticipo e l'ho chiamata tracciato di movimento inseriamo l'oggetto ad animare in questo caso usiamo questo disegno qui un piccolo razzo visto che il disegno è particolarmente chiaro per la maggior parte è bianco sarebbe meglio avere uno sfondo non così chiaro quindi se io clicco su questo bottone qua nella finestra della composition posso vedere come sfondo quel nero che viene scelto nei settings della composition ora riduco la dimensione del disegno magari lo facciamo grande così e lo metto come posizione iniziale qua su in alto nell'angolo a sinistra vengo nella timeline clicco il tasto p per evidenziare la proprietà position col cursore li metto al tempo 0 clicco sull'orologio di position aggiungo il primo keyframe dopo un secondo sposto il razzo dalla parte opposta e subito vedo questa linea che unisce i due punti questo è il tracciato di movimento che al momento è lineare se proseguissi ancora nella timeline e poi spostarsi ancora il razzo si creerebbe un'altra porzione di tracciato a questo punto vediamo che automaticamente comincia a curvarsi proviamo a mettere altri keyframe per esempio un altro a tre secondi spostiamo un razzo completamente fuori poi a 4 lo rimetto dentro qui 5 lo metto qua sopra e mi fermo qua per ora ok il tracciato di movimento è una curva ok per modificare questa curva noi possiamo cliccare sui punti di passaggio e azionare queste maniglie chiamate anche maniglie di besie per modificarle possiamo agire in due modi o ruotarle o allungarle da una parte e dall'altra ok lo posso fare su tutti i punti anche su quelli iniziali e finali se uso lo strumento selezione come sto facendo ora modifico entrambe le maniglie ruotano insieme poi si allungano diversamente una sta ferma mentre allungo l'altra e viceversa però mentre ruoto una ruota anche l'altra rimangono parallele si dice se invece facessi questa operazione di rotazione ma usassi lo strumento pennino non appena cerco di ruotare una delle due maniglie si spezzano si dice cioè la maniglia che io sto toccando ruota l'altra sta ferma e quindi la curva che passa per quel punto è spezzata non è più ben arrotondata entra con una direzione ed esce con una direzione completamente diversa e se io riclicco un'altra volta sulla maniglia tornano parallele se lascio andare e riclicco si spezzano quindi una volta le spezzo una volta riallineo se voglio spezzarle mantenerle spezzate devo tornare di nuovo a usare lo strumento selezione quindi adesso di nuovo col pennino proviamo su qualche altro punto posso spezzare poi se lascio andare e riclicco si riuniscono col pennino posso anche trasformare completamente i vari punti cliccando non più sulla maniglia ma sul punto stesso per esempio se clicco su questo punto elimino le maniglie del tutto e adesso entro ed esco con una linea dritta potrei farlo anche sugli altri punti se invece ci riclicco una seconda volta di nuovo tornano le maniglie quindi ho varie possibilità se non mi piace il fatto che i punti vengano uniti da curve clicco col pennino direttamente sul punto e per i punti passano delle rette se invece voglio delle curve clicco di nuovo e tornano le curve se voglio spezzare queste maniglie uso il pennino e ne ruoto solo metà se voglio fare tonali di nuovo parallele di nuovo clicco una delle due e tornano parallele se voglio ruotarle insieme uso lo strumento selezione e quindi quando ruoto una ruota anche l'altra e via così adesso proviamo a fare una preview di tutta questa animazione vediamo un po' come si comporta il razzo una cosa che salta all'occhio è che la velocità che il razzo ha durante tutto il percorso non è costante ma cambia per esempio nel primo secondo da 0 a 1 il razzo fa un percorso abbastanza lungo da 1 a 2 il razzo invece fa un breve percorso per cui il tempo è lo stesso per spostarsi da un keyframe all'altro ma essendo lo spostamento che fa minore dovrebbe andare più lentamente qua e infatti se faccio una preview qui la prima parte veloce poi lento poi di nuovo veloce poi lento poi veloce perché tra un keyframe e l'altro c'è sempre la distanza di un secondo nella timeline ma il percorso che il razzo fa cambia a volte lungo a volte breve e quindi la velocità che ha non è costante per tutti i punti ecco se io invece volessi che il razzo avesse una velocità costante su tutto quanto il percorso dovrei ridistribuire questi keyframe nel tempo in modo che siano una distanza tale fra di loro così che il razzo abbia la velocità costante ma è troppo complicato trovare il punto giusto nella timeline per fare in modo che poi la velocità sia costante per farlo fare ad after effects in automatico si fa in questo modo si selezionano tutti i keyframe del tracciato tasto destro su uno qualsiasi e si attiva questa funzione qua rove across time vediamo cosa succede succede che il primo e l'ultimo keyframe sono rimasti normali del tipo quadrato quelli centrali si sono ridistribuiti automaticamente hanno una forma rotonda ora se vado a rivedere l'animazione accorgerò che la velocità è costante lungo tutto il tracciato non cambia mai praticamente adesso i keyframe tengono sotto controllo soltanto la posizione di passaggio del razzo sono importanti soltanto per la posizione ma non per il tempo adesso il razzo impiega 5 secondi a fare tutto il percorso dall'inizio alla fine qui se voglio che il percorso invece il razzo lo compia in facciamo 10 secondi cioè per tutta quanta la durata visto che adesso la situazione è cambiata e keyframe sono diventati rotondi grazie a quella voce rova cross time se io prendo l'ultimo keyframe e lo sposto notate che automaticamente tutti gli altri si ridistribuiscono automaticamente nel momento giusto della timeline in modo tale che la velocità rimanga costante per tutto il tracciato ora se faccio una preview di tutti i dieci secondi vedrò che il percorso è sempre quello e la velocità è naturalmente più lenta però sempre costante mi fermo se invece voglio che ci impieghi molto di meno tipo tre secondi andiamo qua tasto n a breve la preview faccio partire velocità costante più veloce ma sempre costante quindi ripetiamo questa cosa quando ho un tracciato di movimento con più punti a parte il fatto che posso rendere più o meno curvilineo questo tracciato posso anche fare in modo che la velocità dell'oggetto lungo quel tracciato sia costante se però io seleziono tutti i keyframe e do questa voce rova cross time questo è molto importante appunto in questi casi quali tracciato con più punti e però voglio che abbia velocità costante bene lasciamola a cinque secondi che mi sembra vada bene perfetto ora questo aspetto si risolve così un secondo aspetto in questo caso particolare con questo particolare disegno mi impone anche di risolvere il fatto che il razzo si fa tutte queste curve però il disegno del razzo rimane sempre in verticale mentre io vorrei che ne so quando si trova in questa situazione qua io lo vorrei apri un attimo la rotation shift r lo vorrei ruotato in questa direzione e quando il razzo si viene a trovare in quest'altra situazione qua lo vorrei ruotato in questa direzione qua insomma vorrei che la punta del razzo fosse sempre in direzione della curva vi dico subito che è troppo complicato cercare di mettere dei keyframe sulla rotazione in modo tale che ad ogni curva il razzo curvi anche lui quindi non si fa così se tutto azzeriamo la rotation per fare in modo che il disegno si allinei automaticamente con la direzione della curva si fa così attivo il livello che voglio allineare il razzo vado nel menu layer alla voce transform ultima voce di transform auto orient qui si apre una finestra dove ho due possibilità al momento l'auto orientamento è spento se invece lo attivo orienta long path quando do l'ok il livello si allinea con il tracciato di movimento ok notare in questa curva qui che il livello si mette in direzione della curva c'è un piccolo problema in questo caso specifico questo disegno qua essendo verticale all'origine rimane verticale anche quando curva quindi devo fare una correzione sulla rotazione cioè devo ruotare il razzo di 90 gradi poi comunque il livello sarà sempre allineato con la curva proviamo la rotation l'ho già aperta corrego di 90 gradi quindi lo scrivo proprio 90 gradi e vedete che adesso il razzo è sempre allineato con la curva nella direzione giusta faccio una preview benissimo proviamo a fare un altro esempio eliminiamo dalla composizione il razzo aggiungiamo il disegno di un pesciolino lo rimpicciolisco un pelo e voglio fare questo tipo di animazione voglio che si trovi fuori entri faccia una parabola e poi si rimmerga fuori dall'inquadratura porto il cursore al tempo zero e metto il pesce in questa situazione qua fuori dall'inquadratura devo lavorare sulla position quindi il tasto P accendo l'orologio e voglio che dopo un paio di secondi si trovi in questa situazione vado direttamente alla fine dell'animazione metto il pesce nella posizione finale perché non mi sono fermato a metà e non ho creato un keyframe in modo tale da fissare il pesce nel punto più alto della sua parabola perché anche con soli due punti io posso prendere le maniglie che comunque già esistono e ruotarle in modo tale da ottenere una parabola quindi rivediamo il tutto il pesce magari un po più in basso parte da qui porto la barra preview qua faccio partire l'animazione ok il pesce entra fa una parabola e poi esce bene anche in questo caso come per il razzo vorrei che il pesce fosse messo in direzione di questo tracciato di movimento e non rimanesse sempre orizzontale quindi seleziono il pesce layer transform auto orient attivo la voce che orienta automaticamente lungo il tracciato do l'ok in questo caso specifico non devo correggere la direzione di partenza del pesce perché essendo il disegno già orizzontale indirizzato verso destra non c'è alcun bisogno in questo caso di correggere riguardiamo il tutto benissimo anche per questa lezione è tutto e ci vediamo alla prossima ciao ciao